A 172 giorni dalle amministrative che hanno sancito il cambio al vertice del governo cittadino e la sua mancata elezione nelle file della Lega, Ernesto Sica torna a sedersi in Consiglio Comunale. Agli asciagli e la poltrona Mario Vivone, consigliere del partito di Salvini, che nella giornata di ieri ha pregolato le sue dimissioni. Una decisione che ha spalancato le porte del parlamentino all'ex sindaco superentrato perché primo dei non eletti nella lista della Lega. Recatosi a Palazzo di Città per espletare tutti gli attivamenti del caso, giusto in tempo per partecipare alla seduta consigliare all'istituto scolastico Zoccola. La surga del consigliere dimissionario Vivone, infatti, è stata già inserita all'ordine del giorno dell'assistere presidente Dario Vaccaro.